La nuova era per il marchio Alfa Romeo V6 510 cavalli a trazione posteriore Nome Giulia e torna oggi con un'auto, una berlina di altissime prestazioni a trazione posteriore, fedele in tutto alla tradizione e alla evoluzione da sempre, impressa in ogni suo modello dal marchio Alfa Romeo Siamo Non Siamo 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 Grazie a tutti.